salve a tutti io sono ilenia e ho trovato questo corso dello chef andrea di giglio per caso su facebook e ne sono contentissima contentissima perché lo chef fa delle lezioni molto semplici da comprendere molto preciso da magari anche qualche suo segreto di pasticceria e mano a nel tempo capisci che inizia a prendere una certa autonomia nel fare varie ricette sono molto fiera dei corsi che sto seguendo e credo di continuare a formarmi quindi con i suoi corsi e che consiglio a tutti perché veramente sono alla portata di tutti e lo chef è semplicemente grandioso non sono cose dette ma sono cose realmente pensate lo consiglio veramente a tutti